Grande Lucera, la tua luce splenderà Sivica però sempre a meno 1 appunto dall'acqua in va terzo poi a meno 8 dallo Spinazzola e poi se non sbaglio non mi ricordo forse 11-12 punti forse anche 13 dal Mula primo, però il Mula non lo consideriamo perché è una squadra fortissima che sta letteralmente volando in questo campionato che dire è una sconfitta che brucia perché appunto abbiamo perso di nuovo il terzo posto anche un pareggio lì si sarebbe andato benissimo e stretto anche per noi, però non ci possiamo fare niente anzi dobbiamo anche capire questi ragazzi che venivano da una settimana molto impegnativa dove domenica appunto, domenica scorsa abbiamo affrontato la Rutiglianese, poi giovedì abbiamo affrontato sotto una bella, anzi sotto una fitta pioggia lo Spinazzola in Coppa Italia e poi ieri appunto c'è stata la terza partita in questa settimana contro l'Acqua Viva e chi a dire brutta sconfitta però parliamo della partita, una partita che è iniziata con l'Acqua Viva che ha sferato subito il vantaggio al quinto minuto con Pinto che sugli sviluppi di un calcio all'angolo da terra colpisce in una mischia la terra colpisce la traversa subito prima occasione pericolosa di questa partita poi la seconda occasione è stata di Pesce che è affondato sulla destra si è accentrato e poi con il sinistro ha trovato una bella risposta di Michele che si rifugge in calcio all'angolo poi purtroppo al quindicesimo arriva il vantaggio dell'Acqua Viva con la punizione sempre di Pesce deviata purtroppo da De La Talia vantaggio per l'Atletico Acqua Viva poi Lucera che dopo il vantaggio dell'Acqua Viva prova a creare qualche azione con Iddi Abdullwaid se non sbaglio cioè dovrei pronunciare così oppure semplicemente Iddi come è il suo nome come chiamama Oscar che Oscar si chiama Oscar Mawa però lo chiamamo Oscar Iddi che è appunto un nuovo arrivato in questo Lucera se non sbaglio è sempre dalla stessa nazionalità di Oscar ugandese però classe 2003 speriamo di vederli bene all'opera come li ho visti bene in estate con la Juniors del Lucera con Mr. Diurno speriamo di vederli all'opera insieme anche in prima squadra in promozione quindi speriamo bene Iddi ha provato a creare un'azione è andato fino in fondo sulla sinistra ha provato a metterla in mezzo ma ha trovato il portiere dell'Acqua Viva pronto sul cross a prendere il pallone e poi al 35esimo arriva l'episodio più discusso di questa partita io non parlo neanche più anzi non mi inveraviglio neanche più perché questa bazelletta è iniziata già da San Ferdinando dalla prima giornata in pratica fallo su Di Canio in area di rigore veramente c'è un fallo proprio che forse anche da seconda terza categoria veramente un pestone in altro modo gli è andato proprio è andato proprio con il piede anzi il difensore è andato con il piede a martello appunto sul piede sinistro di Di Canio l'arbitro che intelligentemente intelligentemente che cosa fa? fischia la simulazione e gli dà addirittura il cartellino giallo per simulazione gli dà addirittura il cartellino giallo e poi mi chiedo giustamente perché bisogna anche incolpare gli altri ma i guardalinee che cosa che cosa stanno a fare in campo? cioè i guardalinee sono quelli che sono le persone i collaboratori dell'arbitro sono i collaboratori dell'arbitro che devono aiutare l'arbitro ma se voi in queste circostanze non intervenite non fate niente nemmeno non ne parlate con il vostro collaboratore arbitro allora che cosa state a fare in campo che cosa state a fare in campo va bene che l'arbitro sbaglia tutto l'arbitro è un'altra eccezione ma pure i guardalinee che stanno lì in campo e dovrebbero aiutare l'arbitro che cosa stanno a fare là ma comunque io non mi meraviglio neanche più perché questa barzelletta inizia da San Ferdinando con il fallo sempre su Di Canio poi possiamo continuare con lo Spinazzola in al comunale dove è stato fischiato un po' il gioco clamoroso su Frazzano che era partire da dietro Grasso che ha lasciato sfidare il pallone appunto per Frazzano che possiamo dire più possiamo dire il fallo su Grasso a Palese contro la Virtus Palese che poi vabbè dopo poco dopo poi abbiamo segnato il gol del 2 a 2 un altro episodio giovedì scorso in Coppa Italia il fallo di mano che ci poteva portare al calcio di rigore forse ci poteva portare alla qualificazione perché con il 2 a 2 passavamo e poi l'episodio di ieri io veramente non parlo neanche più perché ormai mi sono letteralmente rotto le scatole perché veramente ormai gli arbitri sono una cosa veramente scandalosa ma non lo vediamo solo in queste categorie lo vediamo anche nelle categorie quelle proprio alte alte tipo la serie A serie B serie C quindi io non mi inveraviglio neanche più però va bene va bene lasciamo stare poi si arriva al secondo tempo dove appunto il Lucera prova a creare qualche altra azione cross di Gallo sulla destra colpo di testa di Iddi che purtroppo arriva in ritardo e spara alto poi anche di Canio poco dopo con il sinistro al volo purtroppo anche lui spara alto il pallone e infine l'ultima azione è stata di di Lenucci che ha che ha tu per tu con Di Michele grazie a Lucera per per il possibile 2 a 0 e manda fuori il pallone e niente e poi finita così la partita finita 1 a 0 per la trattiva coiva con ovviamente l'episodio del calcio di rigore che è proprio discutibile cioè anzi è più discusso però va bene lasciamo stare andiamo a vedere gli altri risultati praticamente pariamo qui alla vostra destra dove nel match delle 11 il città ritrani ha vinto 2 a 1 contro la rinascita rutiglianese l'atletico acquaiova ha vinto 1 a 0 contro il Lucira il bitrito che sarà la prossima avversaria del Lucira ha pareggiato 0 a 0 contro il Don Uva il Levante ha vinto 4 a 2 in casa contro il Capurso lo Spinazzola ha vinto invece 5 a 2 in casa contro il Real San Giovanni la Virtus Molla ha vinto 3 a 2 in casa contro la Nuova Daunia e infine la Virtus Palese che ha vinto 5 a 2 in casa della Virtus San Ferdinando va bene tanto questa è quella classifica con la Virtus Molla a primo posto con 44 punti secondo posto per lo Spinazzola a 39 punti poi c'è l'Acqua Viva a 32 Lucira a quarto posto con 31 punti Virtus San Ferdinando Levante Azzurro con 27 poi Nuova Daunia con 24 Virtus Palese 23 Città di Trani 21 Don Uva a 18 Real San Giovanni e Bitrito ah Real San Giovanni Bitrito e Capurso 13 punti infine Rinascita Rutiglianese con 7 punti va bene tanto anche il raffreddore si fa sentire vabbè questa invece è la diciottesima giornata dove appunto Lucira affronterà il Bitrito poi le altre partite sono Città di Trani contro Levante Azzurro Don Uva contro Capurso Nova Daunia Atletico Acquaviva Real San Giovanni Virtus Molla Virtus Palese contro Nuova Spinazzola infine Virtus San Ferdinando contro Rinascita Rutiglianese bene affrontiamo il Bitrito che ovviamente non è la stessa squadra dell'anno scorso che appunto ci ha battuto 7-0 4-1 4-0 non è la solita squadra degli anni scorsi però ha mantenuto alcuni giocatori di esperienza come un certo Ivan Loseto grande difensore che poteva essere che era una promessa del Bari negli anni scorsi poi ha ha preso alcuni alcuni giovani nel mercato di questa cioè nella sessione di mercato estiva però comunque l'andata è stata una partita che potevamo vincere anche con un altro risultato perché abbiamo letteralmente dominato abbiamo vinto 2-1 ci siamo ripresi la rivincita dell'anno scorso però adesso la rivincita deve essere doppia perché si deve vincere questa partita loro sono in zona in zona play-out si stanno giocando la salvezza noi dobbiamo per forza vincere questa partita perché sono punti importantissimi lo ha dimostrato la partita contro la rinascita Rutilianese dove è stata appunto una fatica però siamo riusciti a vincere con un bel go di Pozzo Zengaro e niente io da questa partita mi aspetto solo una vittoria voglio solo i tre punti per continuare a lottare per i play-off perché ormai la salvezza non la contiamo neanche più quindi è un risultato già raggiunto adesso bisogna lottare per i play-off e queste partite si devono per forza vincere anche contro le squadre di bassa classifica va bene ragazzi noi ci vediamo spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo direttamente tra tra una settimana con il lunedì Luicerino perché domenica prossima ci sarà la partita il ritorno della finale di Coppa Italia di eccellenza tra Manduria e Manfredonia che io non capisco sinceramente che cosa c'entri con la promozione però va bene lasciamo stare quindi si ritornerà direttamente il 12 di febbraio va bene ragazzi oltre alla sconfitta sempre Forza Lucera e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi